da domani green pass obbligatorio trasporti a rischio e assalto ai tamponi vaccini le marche partono con la terza dose agli over 60 mancati rinnovi di contratto al personale sanitario protestano i sindacati ciclismo e pattinaggio in arrivo nuovo impianto sportivo alla torraccia una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 14 ottobre apriamo con questa vigilia delle green pass obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro ci separano infatti poche ore dal via un provvedimento che è ancora pieno di incognite soprattutto sullo sviluppo di questa prima giornata a tal proposito la regione marche attraverso l'assessore regionale guido castelli ha preannunciato forti preoccupazioni per la regolarità del trasporto pubblico dove si registra un rilevante numero di addetti alla guida dei mezzi non disponibili a dotarsi di questo certificato nelle forme previste della legge un argomento del quale vi abbiamo parlato anche nelle scorse edizioni delle tg e che prospetta un quadro che potrebbe portare a problemi sulla regolarità dei trasporti trasporti che sono già sotto pressione per tutti i servizi aggiuntivi messi in campo dal 15 settembre a causa delle restrizioni delle capacità di carico dei mezzi all'80 per cento la regione marche ribadisce che comunque verrà salvaguardato il trasporto scolastico ma l'invito è quello di informarsi sul sito dei sui delle aziende per una situazione che rischia davvero di assomigliare ad una giornata di sciopero e anche nella provincia di peso urbino da giorni e corsa ai tamponi per i quasi 15 mila lavoratori non vaccinati che alla luce del green pass obbligatorio dovranno sottoporsi a circa tre test settimanali tutti con validità 48 ore un rischio ingorgo che si cerca di evitare anche aggiungendo infermieri nelle farmacie una proposta che è arrivata ieri dal summit in prefettura con area vasta sindacati e confindustria ma che ancora bisogno dell'ok della regione intanto però le farmacie comunali si sforzano di potenziare il loro servizio oltre a incrementare il personale sarà infatti rafforzato l'orario dedicato alle operazioni di tamponatura ad esempio di fronte alla farmacia di via giolitti è stato realizzato anche uno spazio che fungerà da hub per effettuare i tamponi rapidi senza intralciare l'attività ordinaria della farmacia e azzerando i disagi per gli utenti nel frattempo sono stati anche proposti pacchetti di 5 tamponi a 60 euro anziché a 75 e naturalmente nelle farmacie si possono fare i tamponi ma si possono ancora fare i vaccini al pari degli hub vaccinali che ora partono con le terze dosi ai cittadini marchigiani over 60 lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini da sabato prossimo sarà possibile prenotare le terze dosi per tutte le persone con più di 60 anni sul sito poste e la vaccinazione inizierà lunedì della prossima settimana ma attualmente indipendentemente dalla prenotazione chiunque può ricevere la terza dose di vaccino nei punti di vaccinazione nei distretti è importante sottolineare che la terza dose sarà esclusivamente Pfizer quindi anche per coloro i quali hanno ricevuto le prime due dosi AstraZeneca con il vettore virale invece riceveranno la terza dose Pfizer che come sappiamo ha questo vettore RMNA messaggero e quindi diciamo che si conclude un percorso importante che riguarderà immediatamente le persone immunodepresse le persone che hanno subito un trapianto che sono in attesa di trapianto i malati oncologici gravi ebbene queste persone verranno direttamente chiamate dai presidi ospedalieri ma se vorranno potranno direttamente presentarsi nei punti di vaccinazione e ricevere la terza dose. E sempre in tema di Green Pass ricordiamo che domattina a partire dalle 9 è previsto un corteo di protesta verso l'obbligo della certificazione corteo che partirà dalla palla di pomodoro in direzione piazza del popolo appunto dalle 9 di mattina. Ad annunciarlo è stato il comitato noi siamo il popolo italiano. Di tutt'altro genere invece la manifestazione che si è tenuta questa mattina davanti all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Ci sono infatti 30 lavoratori del personale sanitario ai quali non sarà rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato e i sindacati si sono mobilitati per chiederne una stabilizzazione. Prima eroi dell'emergenza sanitaria adesso a casa. Con queste parole protestano oggi i sindacati provinciali legati alla funzione pubblica, al comparto sanitario per quello che riguarda la provincia di Peso Rubino. Questo perché da domani a seguire per i prossimi mesi circa una trentina di lavoratori rischiano di non avere la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato. Facciamo oggi questo sitting perché ci sarà da domani per i prossimi mesi 30 lavoratori che praticamente non verrà rinnovato il contratto di lavoro e quindi non matureranno il requisito fondamentale previsto dalla Madia per poter partecipare ai bandi di stabilizzazione che è stato prorogato nel 2021 e 2022. Questi lavoratori che domani saranno a casa sono gli stessi lavoratori che l'anno scorso chiamavamo eroi, sono quelli che hanno lavorato nelle subintensive, nelle intensive, nei reparti Covid, non si sono certo tirati indietro nel momento del fabbisogno e quindi una mano secondo me d'aiuto sarebbe sicuramente utile e sarebbe sicuramente utile come valore aggiunto all'azienda perché sono ragazzi che hanno un'altissima professionalità soprattutto per i reparti Covid. Stiamo ormai chiedendo da svariato tempo alla direzione generale di Marche Norde affinché si va di verso la proroga dei contratti a scadenza, a termine, oltretutto alcuni sono con la data del 2015 e riteniamo ingiusto che queste persone vengono dalla sera alla mattina mandate via senza un minimo di proroga che potrebbero tranquillamente, quantomeno fino a fine anno, concedergli. Questo percorso di proroga di contratti non andrebbe a intaccare nessuna procedura concorsoale già in atto, quindi i lavoratori vincitori di concorso all'interno dell'azienda Marche Norde in tutta la regione Marche avrebbero due percorsi paralleli sia di procedure concorsuali e sia di manifestazione di interesse per il loro futuro, quindi chiediamo un incontro con l'azienda Marche Norde per parlare del futuro di questi 30 lavoratori in questa azienda. Noi pensiamo che oltre a prorogare questi contratti debbano uscire immediatamente i bandi di stabilizzazione, Marche Norde è l'unica azienda che ancora non ha fatto uscire i bandi di stabilizzazione e il rischio è perdere delle professionalità. Dietro ogni dipendente c'è una famiglia che ha bisogno di un salario, mortificarlo e non riconoscerlo colpisce sia la professionalità di questa azienda ma anche nell'anima tutta una famiglia che rischia da domani e nei prossimi giorni di rimanere a casa. L'estate 2021 è andata in archivio e con essa anche una fitta attività di controlli e di soccorsi in mare. Numeri e raffronti con le precedenti stagioni che la Guardia Costiera Marchigiana ha presentato oggi presso la Capitaneria di Porto di Pesaro. Una maggiore attenzione del rispetto delle normative per quanto riguarda attività in mare e in spiaggia. È questo il sentimento che emerge dai dati di Mare Sicuro 2021. Il report dell'attività stagionale della Guardia Costiera Marchigiana per quanto riguarda attività di soccorso e salvaguarda di bagnanti e ambiente marino è stato presentato oggi presso la Capitaneria di Porto di Pesaro alla presenza dei comandi delle direzioni marittime di Ancona, San Benedetto del Tronto e la stessa Pesaro. Numeri che raccontano di 16 unità soccorse in mare in questa estate di cui quasi la metà per condizioni meteo avverse, 88 le persone salvate in condizioni di emergenza, 7 decessi constatati, 15.000 attività di controllo in attività di polizia marittima ma appena 204 verbali amministrativi, ovvero sensibilmente meno rispetto al biegno precedente in termini di violazioni al codice della navigazione, di ordinanze balneari o in materia di riporto. Sensibilmente più alto invece il dato delle notizie di reato, 27 contro le 11 e 12 degli anni precedenti, la maggior parte delle quali relative a illeciti demaniali. Dati sostanzialmente positivi, nel senso che sono in diminuzione tutte quelle fattispecie di comportamenti irrispettosi oltre che contrari alle norme e quindi questo fa pensare che l'attività di prevenzione che è stata posta in essere sta continuando a dare risultati positivi. Ovviamente quello che dispiagge sottolineare è che anche quest'anno c'è stato un certo numero di decessi avvenuti in mare sulle spiagge, molto pochi legati al fattore mare, pochi annegati veri e propri, tanto invece persone che hanno avuto un malore e in conseguenza del quale poi sono decedute. Però io personalmente considero questi dati delle sconfitte, non personali o del corpo ovviamente, ma sono dati che fanno capire come possa e debba essere fatto qualcosa di più, sensibilizzando maggiormente, che so io, gli stabilimenti balneari affinché si dotino di defibrillatori, lavorando di concerto con le altre amministrazioni deputate a garantire la sicurezza sotto il profilo proprio del soccorso, della salute, ecco il soccorso tecnico, non quello nostro che viene fatto con la moto vedetta, chi è in procinto di perdersi per fattori legati alla balneazione o alla navigazione. Ma sono convinto che si possa e si debba fare di più. 150.000 euro sequestrati fra capitale e beni ad un evasore fiscale. A tanto ammonta l'ultima operazione della Guardia di Finanza di Fano nei confronti del rappresentante legale di una società di confezioni di abbigliamento. L'accertamento è nato dalla verifica di un omesso versamento di ritenute fiscali alla fonte per l'anno d'imposta 2016 che è stato eseguito da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro. Nell'occasione l'autorità giudiziaria ha riconosciuto il reato tributario e disposto appunto il sequestro. Due operai siciliani di 40 e 32 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Urbino per furto con destrezza di un portafogli all'uscita di un supermercato Urbinate. Nell'occasione in questione che risale al 2 di settembre un uomo di 77 anni aveva smarrito il portafogli che di fatto era semplicemente caduto nel parcheggio all'esterno della propria automobile. Questo quanto appurato dalla videosorveglianza che ha immortalato anche i due operai accorgersi dell'accaduto e impossessarsi del portafogli. Una volta riconosciuti è scattata la denuncia ed è stata restituita la refurtiva al legittimo proprietario. E invece è finito in manette un 52enne di Urbania sul quale pendeva un ordine di carcerazione per una rapina a mano armata risalente al 2017 nei confronti di un istituto di credito di Urbania. L'uomo è stato arrestato mentre si trovava in una comunità terapeutica di Pesaro e tradotto nel carcere di Villa Fastigi con una pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione. La città di Pesaro ha ottenuto dallo Stato il finanziamento che mancava per realizzare un nuovo impianto sportivo dedicato al ciclismo ma anche al pattinaggio che sarà realizzato in zona torraccia. A spendersi in prima persona per questa infrastruttura è stata anche il sottosegretario allo sport presso la presidenza del Consiglio dei Ministri Valentina Vezzali. Gli applausi di Valentina Vezzali e Cordiano Dagnoni in collegamento Skype rintoccano all'unisono con la soddisfazione di Matteo Ricci e di Mila della Dora che dal municipio pesarese sfoglia e sbandiera un progetto che dopo il lungo travaglio riceve finalmente l'ok per passare dalla carta ai cantieri. Pesaro avrà una nuova struttura sportiva che aspettava da anni, quella dedicata alle tante realtà ciclistiche cittadine che si erano legate al dito una promessa fatta al tempo dell'abbattimento del velodromo interno allo stadio Benelli. Esulta il ciclismo cittadino esultano anche le società di pattinaggio perché quella che sorgerà in zona torraccia alle spalle di Vitri Frigo Arena e Rossini Center sarà di fatto una pista ciclorotellistica, ovvero un circuito ciclistico di 2037 metri omologato per competizioni nazionali con al suo interno un anello di 600 metri dedicato al pattinaggio di velocità. Un impianto dalla storia tormentata, ha ricordato Ricci, atteso per anni fino all'incontro con l'ex regina della scherma Valentina Vezzali, oggi sottosegretario con delega allo sport alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Vezzali che si è mobilitata per il reperimento di risorse ad hoc. Un contributo decisivo come quello del presidente della Federazione Nazionale Ciclismo Cordiano Dagnoni che ha rafforzato la bontà della richiesta pesarese anche in termini sociali. Ecco allora 800 mila euro di finanziamenti statali che completeranno i 700 mila investiti dal comune. Esulta Mila della Dora, Pesaro città della bicicletta avrà il suo impianto dedicato agli allenamenti delle due ruote. Come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter dare una risposta a quello che è un movimento sportivo importante, il movimento ciclistico. Abbiamo tanti ciclisti che sono in strada e quindi volevamo dare un impianto che permettesse anche di allenarsi in sicurezza, ma anche un impianto che desse una risposta all'attività di base. Abbiamo tanti ragazzi appassionati, tanti giovani ciclisti che vanno ad allenarsi altrove. Ecco vogliamo dare una risposta a loro, vogliamo che il movimento ciclistico possa ripartire nella nostra città quindi dando un impianto che è veramente un impianto, un'eccellenza a livello nazionale. La pista collocata fra via Gagarin e via Grande Torino attende ora solo l'approvazione definitiva per la gara di inizio lavori che si conta di far partire in primavera e completare nel giro di sette mesi. Un impianto che permetterà l'uso, come ha detto anche l'assessore, anche a livello agonistico potrà essere omologato, avrà una pavimentazione in asfalto, uno strato di base in binder, successivamente un tappeto sempre in binder. Con delle fasce di sicurezza laterali e lungo tutto il percorso sono realizzate anche delle piazzole che potranno ospitare delle tribune, degli spazi per giudici e commissari di gara. Domani, venerdì 15 e sabato 16 ottobre ci sarà un'importante occasione di prevenzione sanitaria. Dalle ore 10 alle ore 18 di fronte al Rossini Center di Pesaro stazionerà infatti il camper della prevenzione alle malattie cardiache nell'ambito del progetto Le Strade del Cuore. A tal proposito ne abbiamo parlato con il dottor Fausto Castriota, direttore dell'unità emodinamica e cardiologia interventistica del Maria Cecilia Hospital di Cotignola che appunto coordina questo progetto. Proponiamo uno screening più che una visita in cui si fa una raccolta anamnestica per sapere qual è il profilo di rischio dei pazienti. I pazienti verranno testati con un esame del sangue molto semplice con una piccola puntura al dito. Questa puntura al dito permette con una goccia di sangue di valutare proprio quello che stavo dicendo, i livelli di colesterolo buono, cattivo, il livello totale e anche la glicemia. Sarà controllata anche la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco che sono due cose importanti. Quindi non facciamo un elettrocardiogramma ma controlliamo se il ritmo cardiaco è buono, se ci sono delle aritmie. A volte il fatto di avere tante extrasistoli quando queste persone dicono mi sento il cuore che batte forte. Questa cosa a volte è segno di malattie cardiovascolari, quindi il ritmo cardiaco è una cosa importante da controllare. Controlleremo naturalmente la pressione arteriosa. Messi insieme tutti questi parametri consegneremo a ogni paziente una griglia nella quale viene individuato per ogni singola persona il profilo di rischio. Ci sarà la persona che per fortuna non ha familiarità al colesterolo buono, non ha la pressione alta eccetera e sarà in una fetta del rischio bassissimo. Ci saranno persone purtroppo che per la somma di queste cose avranno un rischio più elevato e lì dovremmo incidere per dire la tua vita, la tua prospettiva di vita cambieranno completamente se tu da adesso rimuovi questi fattori di rischio. Questa è la cosa più importante di tutte. Saranno due giornate, l'accesso è libero, non c'è bisogno di nessuna prenotazione. Naturalmente bisogna avere il green pass perché per entrare all'interno del track bisogna essere con il green pass. Non c'è bisogno di prenotazione perché se arriva si ritira un numerino e su questo numero c'è una sala d'attesa esterna quando il proprio turno si fa questo iter che dura non tantissimo quindi è una cosa del tutto fattibile. Considerate che nelle altre sedi abbiamo avuto delle punte anche di una media di 280 persone scrinate per questa cosa. Quindi sicuramente è una cosa che ha un grosso valore territoriale. Noi come gruppo Villa Maria ci crediamo tantissimo, il GVM gruppo si è sempre impegnato non soltanto nella cura della malattia cardiovascolare perché abbiamo una quantità di professionisti, io mi metto in quel gruppetto che si occupa della famosa gomma esplosa, cioè quando uno è arrivato che ha già il problema acuto e per fortuna riusciamo a risolvere tantissime problematiche nell'ambito cardiovascolare, però tutto l'ambito culturale che gira intorno a questa cosa è un ambito che deve essere sulla prevenzione. Vogliamo che sempre meno persone arrivino in fase acuta e che sempre meno persone si ammalino di malattie cardiovascolari perché questa cosa uccide forse più del Covid, anzi sicuramente più del Covid. Quindi bisogna tornare a pensare a questa cosa in maniera molto più appropriata. Ed ora allo sport, ieri sera proprio in diretta su Rossini TV, i tifosi dell'Ital Service di Calcio A5 hanno potuto assaporare una vittoria davvero emozionante in trasferta con la CMB Matera. I ragazzi di Coach Colini hanno vinto 5-4 una partita tiratissima in terra lucana. Decisive la doppietta di Borruto, le reti di Tony Dandel, Canal e un autogol che ha fissato il punteggio appunto sul 5-4 finale. Ital Service dunque ieri sul canale 633 del Digitale Terrestre, così come oggi torna la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ad essere ospitata nel salotto di Rossini TV e in particolare in quello di Insieme a Canestro. Parte infatti la seconda edizione del programma di Marco Cadedu che inizia nella prima serata di oggi con la novità del programma in diretta. Tutti i giovedì sera, canale 633 del Digitale Terrestre. Sono queste le coordinate già note ai tifosi della Carpegna Prosciutto Basket che sono pronti a tornare insieme a Canestro su Rossini TV. Da giovedì 14 ottobre alle ore 21.20 il canale 633 torna ad essere la casa della VL con la seconda edizione del programma condotto da Marco Cadedu pronto ad una grande differenza rispetto alla prima edizione. Questa volta tutte le 25 puntate di Insieme a Canestro saranno infatti in diretta TV nonché in diretta sulla pagina Facebook per consentire ai tifosi di interagire con gli ospiti in studio. Negli studi di Rossini TV sarà infatti riservato uno spazio social dove sarà data voce ai messaggi che arriveranno via Whatsapp al numero 370-366-7210 e ai commenti sulla pagina Facebook per far partecipare attivamente tutti gli appassionati di basket. Verranno creati anche dei contest in cui il pubblico che partecipa al programma potrà vincere gadget o biglietti messi in paio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesero. Lo scorso anno ha vinto il concorso del commento più divertente Maria Chiara Boscia di La Spezia che ha ricevuto la maglietta ufficiale di Marco Filippovic. Tantissimi infatti sono stati i telespettatori che da tutta Italia hanno seguito insieme a Canestro grazie anche alla diretta Facebook e allo streaming sul sito www.rossinitv.it. Tra gli ospiti della scorsa edizione, oltre a giocatori, opinionisti, giornalisti e consorziati, anche il coach della nazionale Romeo Sacchetti, la leggenda del basket mondiale Dan Peterson e tantissimi mostri sacri della VL del passato. E con questo servizio che ci anticipa la nostra prima serata si conclude qui la nostra edizione del telesornale Rossini News. Vi diamo qualche altro appuntamento, ve l'abbiamo detto, ve lo ripetiamo, non perdetevi insieme Canestro questa sera alle 21.20. Ora vi anticipiamo anche gli ospiti di questa prima puntata la guardia della VL Matteo Tambone e la giornalista Camilla Cataldo, esperta della Carpegna Prosciutto Basket Pesero. Dunque prima puntata questa sera alle 21.20, rigorosamente in diretta. E per quello che riguarda la giornata di domani, di venerdì, il venerdì è il giorno della lettura e il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio. Un appuntamento fisso del venerdì alle 17.30 che potrete rivedere anche sabato alle 10.30 o alle 16 e domenica alle 8 e alle 11. Venerdì però è anche la giornata del Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine, il telegiornale appunto del territorio del Pian del Bruscolo e di Valle Foglia che tutti i venerdì è in programma alle 20 dopo il telegiornale Rossini News oppure in replica alle 23.15 e poi tante repliche nelle giornate di sabato, domenica, lunedì e martedì come potete vedere nella nostra grafica. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.